Ti sei mai fermato un attimo ad osservarla, ad ammirare la sua bellezza, la sua genialità? Miliardi di persone che vivono le proprie vite inconsapevoli. Tu sapevi che la prima Matrix era stata progettata per essere un mondo umano ideale, dove non si soffriva e dove erano felici tutti quanti e contenti? Fu un disastro. Nessuno si adattò a quel programma, andarono perduti interi raccolti. Tra di noi ci fu chi pensò ad errori nel linguaggio di programmazione, nel descrivere il vostro mondo ideale, ma io ritengo che in quanto specie il genere umano riconosca come propria una realtà di miseria e di sofferenza. Quello del mondo ideale era un sogno dal quale il vostro primitivo cervello cercava, si sforzava di liberarsi. Ecco perché poi Matrix è stata riprogettata così. All'apice della vostra civiltà, ho detto vostra civiltà di proposito, perché non appena noi cominciamo a pensare per voi diventò la nostra civiltà, e questa naturalmente è la ragione per cui noi ora siamo qui. Evoluzione, Morpheus, evoluzione, come per i dinosauri. Guarda dalla finestra. Avete fatto il vostro tempo. Il futuro è il nostro mondo, Morpheus. Il futuro è il nostro tempo. Desidero condividere con te una geniale intuizione che ho avuto durante la mia missione qui. Mi è capitato, mentre cercavo di classificare la vostra specie, improvvisamente ho capito che voi non siete dei veri mammiferi. Tutti i mammiferi di questo pianeta, distinto, sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi umani non fate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate. Vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca. C'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento. E sai qual è? Il virus. Gli esseri umani sono un'infezione stesa, un cancro per questo pianeta. Siete una piaga. E noi siamo la cura. Gli esseri umani sono un'infezione stesa, un'infezione stesa, un'infezione stesa, un'infezione stesa, un'infezione stesa.